Pubblico raro video, 27esima settimana internazionale della critica, va al film Eta sova do, eat, sleep, die, di Gabriela Pickler, Svezia. Consegna il premio Gianluca Curti, Gabriela Pickler, purtroppo, non è qui perché è già in volo per Toronto Dove presenterà il film, e questo è molto bello perché vuol dire che veramente abbiamo scelto un film che farà molta strada Però a ritirare il premio è venuta da Stoccolma la straordinaria attrice, protagonista, esordiente, ma davvero straordinaria Nermina Lukacs Grazie 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 a tutti e a tutti voi che sono qui oggi per chiedere il film per vincere questo bellissimo valore Tutti i membri sono in Toronti, ma sono molto grazie e grazie per questo valore Grazie 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 continuiamo questa cerimonia c'è un piccolo buffet per voi e quindi arrivederci a tutti